Le reliquie e la vita di Giovanni Paolo II sono ospitate nel santuario diocesano della Madonna di Fatima a Trani, un progetto del centenario in cammino con Giovanni Paolo II. Marilana Pastore. C'è tutta la vita di San Giovanni Paolo II, protagonista della storia politico-religiosa tra la fine del Novecento e i primi anni Duemila. In questa mostra ospitata a Trani, nel santuario della Madonna di Fatima, ci sono le reliquie del Papa Polacco, dai capelli al frammento di Garza col sangue dopo l'attentato del 13 maggio dell'81, il pastorale, la pietra della prima tomba e racconti fotografici che compongono la mostra intitolata Giovanni Paolo II, padre spirituale del sindacato Solidarnosc, visibile fino al prossimo 13 ottobre. Un progetto del centenario in cammino con Giovanni Paolo II che vede coinvolte le associazioni Giovanni Paolo II di Biceglie, l'associazione San Pietro della Ienca e l'associazione Totus Tuus. Questa idea è il punto di arrivo di un percorso che ha preparato il centenario della nascita di Giovanni Paolo II, che era l'anno scorso, nel 2020, ed era programmata con il rettore del santuario per l'anno scorso. Poi la chiusura della pandemia ha impedito di svolgere tutte le attività che si concluderanno quest'anno, a novembre, con la celebrazione in Vaticano. È una mostra che è stata realizzata e creata in Polonia da un ufficio di istruzione e cultura tramite il postulatore della causa di beatificazione di Giovanni Paolo II e alcuni scatti dei suoi fotografi ufficiali, volendo ricordare anche l'azione di Giovanni Paolo II in difesa dei diritti della libertà e della libertà anche di professare la fede. Infatti è dedicata in alcuni pannelli all'abbattimento dei muri e alla nascita della libertà anche dei sindacati in Polonia. È una mostra che abbiamo appunto ricevuto e terremo fino al mese di dicembre, non solo qui nel santuario in queste prime settimane di ottobre, ma anche in alcune scuole che ne hanno fatto richiesta, perché possa essere anche oggetto di studio da parte dei ragazzi che lavorano ogni anno per un concorso studentesco dedicato a Giovanni Paolo II. Le reliquie sono la parte, diciamo, cuore, non a caso sono al centro della mostra nella cappella dedicata alla Madonna di Fatima, perché rappresentano la presenza viva di Giovanni Paolo II. È sicuramente in paradiso, ma è sempre qui accanto a noi. E sono un ricordo vivo della sua presenza accanto a noi. Ripercorrere la vita di questo testimone di Gesù e del Vangelo è attraverso anche questa mostra un avvicinarci per riappropriarci di quella che è l'essenza del Vangelo. Le reliquie che fanno parte di questa mostra sono riferimento alla sua vita, al suo servizio da pastore, da guida per la Chiesa, ma sono anche delle reliquie che ci rimandano appunto al dono della sua vita. Grazie a tutti.